Ciao e benvenuta o benvenuto alla nostra proposta immobiliare di oggi. Qui ci troviamo in zona Baragalla, la zona sud di Reggio Emile, considerato un po' il polmone verde di Reggio, in quanto il complesso ha un bellissimo giardino interno e ci troviamo veramente a pochissimi passi dal barco delle Capretti, con la sua bellissima camminata ciclo bedonale. Qui siamo in un complesso di appartamenti e villette, originariamente negli anni 70, che è stato completamente riqualificato con il 110. Quindi in lo specifico ci stiamo vedendo una villetta schiera centrale su tre livelli. Siamo nella zona giorno, che è stato un palmento che è stato rinnovato, la villetta schiera ha l'aria condizionata e la caldaia nuova a condensazione. Ovviamente saranno cambiati completamente anche i modifesi. Su questo piano, che è il primo piano, ci troviamo appunto nella zona giorno, con un soggiorno, con accesso al piccolo giardinetto privato, quindi anche se avete un animale è una situazione che può essere perfetta. E sempre a questo piano abbiamo la cucina abitabile, che adesso vediamo, e un bagno. Eccoci al primo piano. Dalla scala in legna ci portiamo nella zona notte, che come vedete ha questa camera matrimoniale, un'altra ampia camera matrimoniale, una camera singola, un altro bagno e un comodissimo ripostino. Includiamo il tour di oggi al piano terra della casa, dove abbiamo questo ambiente, che può fungere da taverna, da zona per accogliere gli amici, a una lavanderia e vi ricordo che al piano interrato e in una zona comune è anche presente un garage singolo. Grazie per essere stati con me, noi ci vediamo come al solito al prossimo tour immobiliare.